Sarebbe davvero un danno al settore industriale del fotovoltaico europeo, ma anche un danno ai cittadini europei. Ricordiamoci che l'obiettivo del fotovoltaico è quello di fare energia pulita. Più energia fotovoltaica c'è e meno energia da fossile, da fonte fossile, carbone, petrolio, viene prodotta con tutte le conseguenze per la salute che conosciamo bene.